Ciao, sono William Visacchi di blogvisacchi.it e in questo video ti parlerò della villa di Renata ad alte prestazioni, una villa che abbiamo fatto in collaborazione con Cristian Bandacci dello studio Abita. Una delle richieste che ci ha fatto la cliente e anche l'architetto era di avere un ottimo isolamento termico, quindi ottime prestazioni energetiche. E poi un'altra cosa fondamentale che voleva la cliente era affidarsi a un'azienda che potesse seguirla al 100%, quindi dagli infissi alle porte, le date, le porte interne, alle opere in ferro, quindi come la scala, la recensione, i cancelli, tutto quello che voleva e anche quello che non voleva perché scopriremo all'interno del video che c'erano anche delle cose che sono venute fuori dopo. In più voleva un'azienda affidabile, solida, da molti anni sul mercato della zona e quindi ha trovato la Visacchi e si è trovata molto bene. In questa realizzazione che puoi vedere nelle foto abbiamo adottato delle soluzioni di fisso in legno-aluminio, una delle soluzioni con prestazioni termiche più elevate che si possono avere e abbiamo utilizzato dei vetri tripli, quindi dei vetri a doppia camera, i vetri di circa 5 cm di spessore che garantiscono un isolamento termico di 0,5 Watt al metro quadrato, che sono prestazioni quasi a livello di un muro, quindi l'isolamento termico è stato ottenuto grazie a questo tipo di vetro e a questo tipo di infissi. Come dico sempre, l'importante è avere l'equilibrio, non basta solo il vetro, non basta solo l'infisso e bisogna anche posare in un certo modo con dei controttelaio termici a monoblocco, come in questo caso e anche con il tipo di poso in opera tra controttelaio e infisso ad alte prestazioni, in questo caso il sistema Visacchi che si basa sui tre livelli, che puoi vedere negli altri articoli. Poi per il raggiamento solare, quindi il risparmio energetico in estate, abbiamo scelto delle persiane con lamelli orientabili, una scelta molto bella e molto pratica, bella nel contesto perché si vuole fare una villa da uno stile classico, non troppo moderno e anche pratica, quindi la praticità di poter regolare la luce delle lamelle è una cosa molto molto comoda. Le zanzariere a scomparsa, totalmente integrate nell'infisso e poi dopo abbiamo fatto anche tutte le porte interne, il frascio spazzolato, le porte blindate, le infariate sia fisse sul disegno sia apribili, a scomparsa totale all'interno del muro che non si vedono e anche delle altre tipi di infariate invece apribili ad alta. Ci sono tante soluzioni in questa villa, come abbiamo fatto tante soluzioni anche in carpenteria, dai cancelli, tutti i suoi disegni dell'architetto Cristian Baldacci, alla scala che è un parpetto che simula un cannetto ma le foto rendono meglio di mille parole, come anche un pergolato tutto in acciaio, zincato e vericiato, quindi indistruttibile, e come anche un mobile per il camino che ci ha disegnato l'architetto, viene da sorridere perché nelle foto puoi vedere anche delle fasi di realizzazione sia in officina ma anche in cantiere dove la cliente è sempre stata a fare delle foto ed era molto divertita perché sono cose belle, questa è dell'artigianità di creare delle cose su disegno, delle cose che prima non esistevano e poi sono diventate possibili, grazie a un'idea dell'architetto e all'artigiano che riesce a mettere in pratica queste idee. Per concludere, come puoi vedere, la casa ha un gusto molto classico, ci sono state abbinate al gusto classico anche delle antichità all'interno dell'arredamento che rendono questa casa ancora più calda e ancora più accogliente. Renata abita in questa casa ormai da un po' di anni, dal 2016 quando l'abbiamo completata e ci ha detto che abbiamo ottenuto l'isolamento termico che voleva, quindi vivere in una casa confortevole ma anche in una casa pratica senza nessun bisogno di manutenzione e con meno problemi possibili. Se anche tu vuoi una casa come quella di Renata, con i fissi ad alto potere isolante, con un'azienda che ti può servire a 360 gradi, quindi chiave in mano, infissi e opere di contorno, puoi affidarti alla Bisacchi andando su www.bisacchi.it e se ti è piaciuto questo video metti mi piace e continua a seguire il canale attivando le notifiche così non ti perderai i prossimi. Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video!